Da tragedie in due battute di Achille Campanile, Amleto in trattoria, personaggi, Amleto, il cameriere, avventori, camerieri, sigaraio, eccetera. In una trattoria in Danimarca, all'ora di pranzo, Amleto, esaminando il microscopico pollo che gli è stato servito. Cameriere, che cos'è questo che mi avete servito. Il cameriere. Oh signore, era un pollo, ma ora è morto, pace all'anima sua, e non è più niente. Sipario.